Nessun rischio di didattica a distanza, domani tutti gli alunni possono tornare a scuola. La rassicurazione arriva direttamente dalla dirigente scolastica Monica Dalmonte, che questa mattina ha dovuto gestire le difficoltà legate all'allagamento delle due classi alla scuola elementare del Poderino a Fano. Non ho ritenuto assolutamente opportuno trattenere i bambini in quelle classi, anche perché in quel plesso non ho altre classi libri dove poter trasferire magari un'altra aula. L'unica soluzione è stata questa. Sono molto dispiaciuta perché immagino di aver recato un disagio alle famiglie, però è prevalso la protezione dei bambini e la sicurezza. Non mi sono sentita di lasciarli così. Prima di intraprendere questa azione, ha poi precisato la dirigente, ho avvisato prontamente l'assessore ai servizi educativi, Samuele Mascarin. Loro mi hanno detto che comprendiamo che la sicurezza è la prima cosa. Volevo precisare che questo è un problema vecchio, cioè nel senso è già da alcuni anni che segnaliamo questa problematica e non ultimo io già ad agosto, il 21 agosto e poi il 20 settembre, avevo di nuovo segnalato questa problematica per iscritto agli uffici competenti, quindi ai lavori pubblici, senza avere nessuna risposta. Quindi purtroppo ho dovuto tamponare una situazione che era a conoscenza, insomma, anche del Comune. Tra i genitori c'era una preoccupazione per un'eventuale didattica a distanza. Sarà così? No, assolutamente, perché proprio poco fa sono intervenuti i tecnici del Comune che hanno, diciamo così, rimosso il problema che c'era sul tetto e quindi da domani le elezioni riprenderanno regolarmente.